Si susseguono le dichiarazioni del presidente Chiamparino, neopresidente della Regione Piemonte, alle TV e riportiamo i lanci ANSA che li riferiscono. Questo in particolare. La vittoria è un onore che dà una grandissima responsabilità. Adesso finita l'adrenalina dei microfoni, bisognerà incominciare a lavorare. Così prosegue il presidente Chiamparino. La norma sui rimborsi sarà abolita perché così è già stato deciso. Si tratta di confermarlo con il nuovo Consiglio. In particolare il presidente Chiamparino parla dei rimborsi che vengono assegnati per l'attività istituzionale dei consiglieri. Continua e prosegue. Posso tranquillizzare chiunque, non tanto sui miei indumenti intimi, che non credo interessino a qualcuno, quanto sul fatto che il regolamento sui rimborsi sarà abolito.